buongiorno in diretta con gli amici della premiata pasticceria duo taglio di po perché ieri sera c'è stata una vincita milionaria 200 mila euro che una vostra cliente ha vinto come è andata e quindi una vincita e se abbiamo festeggiato e non ci credeva non ci credeva nemmeno noi ci abbiamo guardato tante volte è stata una sorpresa di 200 mila euro so che la signora vuole mantenere l'anonimato però è una delle di taglio di po è una vostra cliente e quindi è giusto che abbia vinto in questa premiata pasticceria duo come ripeto sì che siamo molto felici che ha vinto lei possiamo dire che la pasticceria duo porta fortuna adesso sì da ieri sera quindi se volete avere fortuna dovete andare in pasticceria duo taglio di po complimenti alla signora che ha vinto grazie a jessica che il nostro gancio che ci ha dato la notizia in anteprima e al tuo collega il signor duo che non mi ricordo come si chiama filippo filippo della premiata con il babbo marco e non solo ciao ragazzi grazie ancora continua la bevuta anche dopo